Si fermano qui? Già, pare che il muro posteriore del tempio sia stato fatto saltare. Già, gli spagnoli devono aver creato un passaggio per tirar fuori il tesoro. Bene, e ora? Aspetta, Sally, lo senti? Sì. 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 Ecco una cosa che non si vede tutti i giorni. Cavolo! Sì. Sì. Che mi venga un colpo. Sì. 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 Perché tu non resti qui? Vado io a controllare. Ti chiamerò se mi imbatterò nei nazisti, ok? Eh, va bene. Vai tu. Sì. Aspetta, aspetta. Puoi tenermi questo? Ok. Sembra che dovrò arrangiarmi come posso. Sì. 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 Grazie a tutti. 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 Nate, da qui dovresti essere in grado di saltare direttamente sullo porto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Deve essere successo qualcosa di brutto a questi tizi. C'è sangue da tutti. è un bel macello. Cosa? a tutti. Sì. E questo dove l'hai preso, amico in decomposizione? Direi che siamo sulla buona pista. Come mai? Diciamo che ho appena incrociato un tizio con le tasche piene d'oro spagnolo. Le monete sono coniate con un marchio che non ho mai visto prima. Mi stai prendendo in giro? Sembra che i nostri amici tedeschi avessero un piccolo segreto. Alla prossima. Come ando. Sono nella cabina del capitano. Senti qua, lui è ancora qui. Cosa intendi dire? Sembra sia stato ammazzato. Fatto a pezzi a dire il vero. Brutto modo di andarsene. Sì, è terribile. Controlla la sua sacca. Che uomo di cuore sei, Sally. Non è possibile. Deve essere uno scherzo. Trovato qualcosa, ragazzo? UK2642. UK... UK... UK2642. Eccoti qua. Tutto bene? Sally, non ci crederai. Vediamo. Ho trovato la pagina che manca. Non può essere. Sembra che Drake e gli amici tedeschi cercassero lo stesso tesoro. E io ho la mappa che ci porterà dritti dritti adesso. Nate, spero che non sia un altro girare a vuoto. Dobbiamo tirar fuori qualcosa da questo viaggio. O cosa? Sally? Sei lì? Sullivan! Sullivan!